Ancora la partenza di Franco Miri, vediamo come si comporta questo viaggetto. Con il vento che mi spettino i capelli, ecco Franco Lini e Andrea a partire senza l'uomo la prossima schiena, speriamo, è un ragazzo flessibile, ecco la prova che continua, siamo già vicini alla boa, per sicurezza stiamo leggermente più larga, vediamo un po', scusate ma non si vede niente col sole, eccolo qua qui, giro tipo a quello largo, ottimo, ottimo giro, dietro, sottovento, facile, provano le strade dai, possiamo dire, sta già tornando, se non si ribalta, ho detto che è preso l'onda molto attraverso, ecco la sciclidatrissa, ecco la sciclidatrissa, bravo, bene, benissimo, ecco qua, ah perfetto, giro della imbarcazione, non ha tante, rientro in perfetto stile e nel punto esatto della partenza. Andrea si prepara alla partenza, una certa giunta di Elisa, vediamo come andrà a ottenire.